Ciao a tutti, come gestire lo stress nella coppia? Uno dei problemi più sentiti in una coppia è proprio quello della gestione dello stress. Vediamo come affrontarlo. Prima di tutto però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tarmasco ed iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, come affrontare, come gestire lo stress nella coppia? Intanto che cos'è lo stress? Lo stress è una tensione, uno stressore, una tensione che si genera. Noi immaginiamo di essere dell'energia, uno stagno inquiete, ad esempio, se ha energia però che possiamo, viene buttata una pietra che genera delle onde. Queste onde sono lo stress, sono delle tensioni che mettono in movimento. Ora, lo stress può essere sia positivo che negativo. Quello positivo viene chiamato eustress. È uno stress benefico perché è quella tensione piacevole che c'è all'interno della coppia, è quella tensione che ci dà, diciamo, una sorta di vitalità. È quel tendere, diciamo, che è piacevole fondamentalmente. E quindi viva le tensioni piacevoli. Poi però abbiamo altre situazioni, delle tensioni invece che sono spiacevoli, che sono quelle tensioni dove si genera rabbia e rancora e risentimento. Quindi abbiamo due famiglie di tensioni, quelle legate al pathos, all'emotività, alle emozioni. E queste tensioni di fatto sono sempre positive perché le tensioni collegate al pathos, all'emotività, sono sempre tensioni positive, che è quel piccolo tormento, diciamo, che però dà un piacere, insomma. È come quel piccolo fastidio che poi quando viene appagato si prova piacere. Mentre lo stress negativo, il distress, è quello dove si genera rabbia e rancora e risentimenti all'interno della coppia. Rabbia e rancora e risentimenti sono generati anche spesso da rimpianti e rimorsi, di non aver fatto delle cose, di averne fatte altre. Insomma, quindi per gestire lo stress, la cosa fondamentale è rendersi, all'interno di una coppia, la cosa fondamentale è rendersi conto di quando ci sono dei momenti di tensione, dovuti a rabbia, a rancorre e risentimenti. Bisogna parlarne, vanno risolti subito perché la rabbia non è espressa, non è elaborata, ma rimane, che rimane nascosta, è un veleno che prima o poi, più prima che poi, porterà alla morte della coppia e porterà pure al tradimento, senza senso di colpa neanche. Quindi neanche più il senso di colpa ti impedirà, o impedirà all'altra persona di arrivare al tradimento. Quindi è importante, è veramente fondamentale, nell'ambito di una relazione di coppia, mantenere saldo il rapporto, eliminando tutta la rabbia e la negatività. Per eliminarla basta parlarne, non tenere le cose nascoste, tenere le cose nascoste o non espresse, o, come dire, lì nel limbo, bisogna affrontarla, bisogna avere il coraggio che quando viene fuori della rabbia, affrontarla istantaneamente, rapidamente, il prima possibile. Perché se tu non la affronti, la farai crescere. Tutto ciò che viene tenuto nascosto, che viene tenuto segreto, si fortifica. E quindi devi impedire che la rabbia cresca troppo. Quindi alle prime avvisaglie è meglio portare il discorso su un piano adulto. Noi dentro di noi abbiamo una parte adulta, una parte bambina, una parte genitrice, normativa, diciamo così, portare il discorso su un terreno adulto in modo tale da poter interagire e andare a smussare le cose, far sciogliere la rabbia. Allora, a quel punto lì si potrà riprendere un discorso e si potranno trovare degli accordi e rigenerare quella tensione invece positiva che è l'eustress, dovuta un po' al pathos, all'innamoramento, insomma, al piccolo patimento d'amore, che invece è positivo. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!